Buonasera a tutti, a me quindi il compito di parlare della stratificazione del rischio e prevenzione delle complicanze tromboemboliche. Iniziamo quindi dalla prevenzione. L'anticoagulante può prevenire la formazione di trombi negli immanteriori? Alla base delle nostre conoscenze stanno studi osservazionali piuttosto datati e raccolti in questa meta-analisi del 1993 che riporta un'incidenza e un incremento del rischio relativo di embolia sistemica di 5 volte maggiore nei pazienti con infarto miocardico a quota anteriore ed evidenza di trombosi ventricolare sinistra paragonati a pazienti con immanteriore in assenza di trombosi ventricolare sinistra. Qui la meta-analisi si focalizzava sull'utilizzo dell'anticoagulante per prevenire l'incidenza di trombomurale dopo un immanteriore. Analizzando 4 studi per un totale di 307 pazienti, gli autori avevano quindi riscontrato un 68% di riduzione dell'incidenza di trombosi endometricolare nei pazienti che ricevevano l'anticoagulante col varparin. Quindi sembra tutto a favore della terapia con il cumadin. Però sottolineiamo che questa meta-analisi è stata fatta nel 1993, quindi prima dell'epoca della riperfusione moderna, quindi senza l'utilizzo concomitante della duplice terapia antiaggregante che è attualmente in uso nei pazienti che sono sottoposti a rivascolarizzazione. Inoltre tale meta-analisi non presentava e non riportava quelle che erano le complicanze dell'anticoagulante, quindi il rischio di sanguinamento correlato a tale terapia, per cui in questo caso non veniva fatto un adeguato bilanciamento tra i rischi e i benefici di utilizzare una terapia anticoagulante in questa popolazione. Cosa dicono le linee guida riguardo alla prevenzione della trombosi ventricolare sinistra? Le linee guida del 2013 dell'American College suggeriscono di valutare e di aggiungere la terapia anticoagulante alla duplice terapia antiaggregante nei pazienti con stemi quando ci sia una cinesia o una discinesia della parete anteriore per prevenire le complicanze tromboemboliche. Questo sarebbe con lo scopo di mantenere un NR target tra 2 e 2,5 per una durata di 3 mesi, ma resta in classe di raccomandazione 2B con livello di evidenza C, perché comunque non sono noti i benefici della triplice terapia in questo tipo di popolazione. L'American Heart and Stroke Association del 2014 valutano invece di considerare il trattamento con il varparin nei pazienti con stroke ischemico o TIA nel setting di un infarto miocardico acuto tipo stemia anteriore che presenti a cinesia apicale o discinesia apicale, sempre con un range terapeutico tra 2 e 3 per la durata di 3 mesi, di nuovo classe di raccomandazione 2B, livello di evidenza C. Al contrario invece le ultime linee guida europee del 2017 sulla gestione dello stemi non raccomandano nessun tipo di strategia per prevenire la formazione della trombose doventricolare sinistra nel paziente con infarto miocardico acuto tipo stemi. In questo studio osservazionale di 460 pazienti tra il 2015 e il 2017 sottoposti a rivascularizzazione per un infarto anteriore tipo stemi e il ritmo sinusale con residua di cinesia apicale, gli autori si proponevano di comparare gli outcome nei pazienti con o senza terapia anticoagulante con varparin. Da qui risultava come nel gruppo di pazienti sottoposti a varparin ci fosse un incremento del endpoint composito di mortalità per tutte le cause stroke e infarto e un incremento dei sanguinamenti a 180 giorni senza però differenze nell'incidenza di formazione di trombo tra i due gruppi. Anche in questo studio osservazionale del 2017 condotto sotto 398 pazienti si vede come l'utilizzo del profilattico del varparin non si è associato con un più basso endpoint composito di ischemia, stroke, tia, embolismo sistemico o mortalità per tutte le cause ma si è associato solo a un più alto tasso di sanguinamenti maggiori a un anno, nonostante la popolazione selezionata per il varparin fosse quella considerata più alto rischio di trombosi, quindi quella con stegna anteriore e disfunzione ventricolare sinistra considerata come una frazione di reazione inferiore al 40%. Sarebbe quindi interessante sapere se basse dosi di anticoagulanti diretti in aggiunta alla singola terapia antiaggregante sia efficace nel preverino a trombosi ventricolare sinistra ma al momento non è ancora stata testata. Dalla letteratura risulta quindi come i trombi che più facilmente tendono all'embolizzazione siano quelli che protrudono nella cavità ventricolare sinistra e siano quindi esposti maggiormente al flusso ematico da diverse parti e quelli che presentano una mobilità maggiore e che quindi favorisce la friabilità del trombo, diversamente da quando non accade per i trombi immurali che appaiono più piatti e paralleli alla superficie endocardica. E qui vediamo un paio di esempi di trombi che da quanto detto appaiono a maggior rischio di embolizzazione sistemica. Sono stati invece riportati dati contrastanti in merito ad alcune caratteristiche cardiografiche del trombo per la stratificazione del rischio tromboembolico. In particolare le dimensioni del trombo, l'ecolucenza centrale e l'ipercinesia dei segmenti miocardici adiacenti alla zona di aderenza del trombo vengono in alcuni studi associati a un incremento del rischio tromboembolico mentre in altri tale reperto non viene ad essere confermato. Resta comunque importante sottolineare e apprezzare che ci sia una variazione tempo dipendente e spontanea della morfologia e dell'aspetto del trombo che accade nelle prime settimane, nei primi mesi dopo l'imparto miocardico acuto. In particolare è importante sottolineare come nel 40% degli episodi di embolia sistemica questo accada in pazienti in cui il trombo non sono né protrudenti né mobili e quindi quando il trombo è rilevato l'anticoagulazione diventa essenziale per impedire quello che è il rischio di tromboembolismo sistemico indipendentemente dal fenotipo ecocardiografico rilevato. Le linee guida attuali raccomandano quindi gli antagonisti della vitamina K come prima scelta terapeutica per ridurre il rischio tromboembolico nei pazienti con infarto miocardico acuto che abbiano evidenza di una trombosendo ventricolare sinistra. Di nuovo la metanalisi precedentemente citata del 1993 in cui in 7 studi 270 pazienti si vede come l'utilizzo degli anticoagulanti riduca in modo significativo il rischio di embolia sistemica nella popolazione di pazienti affetti da infarto miocardico anteriore e con riscontro di tromboendo ventricolare. Altre condizioni che da letteratura risultano essere associate ad un aumentato rischio di embolizzazione sistemica sono inoltre la presenza di insufficienza cardiaca con gestizia severa, la disfunzione ventricolare sinistra e diffusa dilatazione del ventricolo sinistro, storia di pregresso e embolizzazione, fibrillazione atriale ed età avanzata del paziente. È stato inoltre suggerito che il rischio di embolizzazione sia più basso nei pazienti che presentano un aneurisma del ventricolo sinistro poiché in assenza della zona ipercontrattile vicino al sito di trombosi dovrebbe essere più difficile il dislocamento e l'embolizzazione del trombo stesso. Ciò che suggeriscono le linee guida lo troviamo riassunto in questo schema. Nel 2013 le linee guida americane per la gestione dello STEMI trovano ragionevole l'utilizzo della terapia anticoagulante in associazione alla duplice terapia antiaggregante mantenendo un INR tra 2 e 2,5 per 3 mesi nei pazienti con STEMI e trombosi murale ventricolare sinistra sintomatica. Nel 2014 le linee guida dell'American Heart e American Stroke Prevention invece raccomandano l'utilizzo della terapia anticoagulante mantenendo un range tra 2 e 3 per 3 mesi nei pazienti con ictus o tia nel setting di un infarto miocardico acuto complicato da trombosi murale sinistra. Le linee guida europee invece della gestione dello STEMI del 2017 pongono la possibilità di considerare la terapia anticoagulante che deve essere però guidata da ripetuti ecocardiogrammi e tenendo comunque in considerazione il rischio di sanguinamento e la necessità di una concomitante duplice terapia antiaggregante non dando quello che è un range terapeutico per le INR da mantenere considerando e consigliando una durata minima di 6 mesi. La risoluzione del trombo in terapia con il varfarin risulta essere dell'80-85% a 6 mesi e qui vediamo alcuni esempi in cui sia in caso di concordanza o discordanza della diagnosi fatta con l'eco 2D e l'eco contrasto e poi confermata la risonanza a distanza di 6 mesi il gold standard quindi la risonanza conferma la completa risoluzione del trombo. Di nuovo per valutare il rischio di embolia sistemica si vede come in questo studio condotto in un arco di 13 anni su 1850 pazienti con un primo infarto miocardico acuto il rischio di trombosi endoventricolare sia del 5%. I pazienti seguiti con un follow up medio di 5,4 anni in cui il rischio di embolismo sistemico risulta essere correlato con la presenza di trombosi endoventricolare sinistra. In particolare all'analisi multivariata la presenza di un trombo era un preditore indipendente per il rischio di embolia sistemica. In particolare andando a valutare quelli che sono gli hazard ratio per il rischio dei pazienti vediamo come questo sia del 5,2 nei pazienti con trombosi senza storia di FA e 3,2 nei pazienti con FA senza trombo e 15 nei pazienti che presentano sia una storia di FA sia una trombosi endoventricolare sinistra. Gli autori sottolineano poi come sia importante e fondamentale il TTR quindi il tempo e il range terapeutico e come sia questo correlato all'insorgenza di eventi embolici. In particolare nei pazienti in cui il TTR è maggiore o uguale al 50% l'incidenza di embolismo è basso ed è del 3% rispetto a quanto non accada nei pazienti in cui il TTR è sotto il 50% l'incidenza di embolismo è pari a circa il 20%. Sottolineando però che l'incidenza di sanguinamenti maggiori è pressa poco sovrapponibile nelle due popolazioni. In quest'altro studio si vede invece come in circa 160 pazienti con una trombosi confermata all'eco il 50% circa veniva trattato con antagonisti della vitamina K e il 20% circa con i NAO e si evidenzia come una risoluzione del trombo totale accada nel 60% dei pazienti circa con un tempo mediano di circa 100 giorni. Si va a sottolineare inoltre come suddividendo la popolazione in due gruppi con o senza regressione totale del trombo l'insorgenza di eventi avversi di MEI, di mortalità per tutte le cause e di complicanze emboliche si è sostanzialmente sovrapponibile tra le due popolazioni a discapito però di un incremento di tasso di sanguinamenti maggiori nella popolazione in cui è mantenuta la persistenza del trombo e quindi viene continuata la terapia anticoagulante e inoltre si vede che gli eventi avversi avvengono più frequentemente nei pazienti che effettuano terapia anticoagulante con l'eparina e presentino fibrillazione atriale mentre risulta essere protettivo un FE al basale maggiore uguale al 35% e l'utilizzo di terapia anticoagulante per più di tre mesi. A questo punto se andiamo a valutare l'eco di questo paziente che presenta la quasi completa ma non completa risoluzione dopo sei mesi di trattamento anticoagulante della trombosi e che presenta sempre di sinergie segmentarie. Qual è il rischio embolico e quale risulta essere il management migliore? Lasciando la domanda aperta parlando ora degli anticoagulanti diretti la loro efficacia sembrerebbe comparabile a quella del warfarin ma i dati sono limitati a piccole serie di casi e a meta-analisi di case report come quella qui riportata in cui in una popolazione totale di 49 pazienti trattati con INAO nel 92% dei casi si assisteva a una risoluzione completa del trombo in un tempo mediano di 32 giorni in pazienti seguiti prevalentemente con l'eococardio transtoracico per cui gli autori sottolineavano come INAO a questo punto risultino essere una ragionevole e valida opzione al trattamento della trombosi endoventricolare sinistra. Questa inferenza però risulta essere inesatta in quanto non tiene conto della differenza intrinseca della trombogenesi che avviene nel ventricolo sinistro rispetto a quella nei trombi FA relati anche in articola sinistra rendendo la scoagulazione quindi non intescambiabile e richiedendo una migliore valutazione dell'utilizzo off-label dei NAO in termini di rischi e benefici. Sono quindi necessari ulteriori studi in tal senso e a tal proposito attualmente si cita come siano in corso dei tre alcinesi che confrontano i NAO con i barparin. Per concludere quindi nei pazienti in cui ad un imaging seriato non vi sia evidenza di una trombosi endoventricolare sinistra si può mettere quella che è la terapia anticoagulante cosa che non va assolutamente fatta nel caso in cui all'imaging sia presente tale trombosi per cui l'anticoagulante deve essere usato a dose piene terapeutica per prevenire il tromboembolismo sistemico sempre considerando che la triplice terapia aumenta il rischio di sanguinamento e può non prevenire l'insorgenza di trombosi endoventricolare. Da ultimo i NAO sono sempre più utilizzati come alternativa off-label agli antagonisti della vitamina K ma restano ancora in fase di studio. Rimangono comunque incertezze per quanto riguarda l'algoritmo diagnostico di screening ottimale, la frequenza dell'imaging per il follow up, la selezione adeguata per i candidati alla profilassi trombembolica e le strategie di trattamento adeguate e quindi rimane evidente come un approccio individualizzato a ogni paziente caso per caso continui ad essere necessario. Grazie.